fvg tech la tecnologia in tv un programma di gabriele gobbo ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali ben ritrovati cari amici telespettatori su fvg tech ben ritrovati anche ai ragazzi che ci ascoltano in cuffietta da spotify dagli altri canali audio che abbiamo o perché no magari sei su youtube e ti stai guardando magari mentre sei alla toalette che ne so da dove ci guardi l'importante è che ascolti bene quello che abbiamo da dirti oggi perché l'ospite è conosciuto come flavius il nome completo adesso proverò a dirlo perché siamo amici da pochissimo e non lo chiamo mai per cognome abbiamo flavius florin arabor perfetto ti chiamerò flavius durante tutto il corso della puntata per semplificare allora perché abbiamo deciso di chiamarti di averti qui tramite i potenti mezzi di internet e soprattutto di skype perché oggi vogliamo parlarvi di un argomento si digitale ma molto verticale potrebbe sembrare a un certo punto che parliamo di whatsapp ma noi in realtà parliamo di telegram che è una applicazione di messaggistica personale del tutto simile a whatsapp e qui gli amanti di telegram mi faranno una petizione per mettermi al muro in realtà è un'applicazione per la messaggistica personale che però permette di fare delle cose incredibili a un software un sistema operativo lo chiamo io in realtà una piattaforma social ormai diventata perché permette di fare molto business noi abbiamo il nostro canale telegram appena aperto di fvg tech gabrile dobbo se volete iscrivetevi così non facciamo brutta figura con flavius digital specialist soprattutto di telegram dopo tutto questo spippolotto in un minuto per far capire di cosa ti occupi ce lo dici e lo dice i nostri telespettatori ok allora io come prima cosa nasco come sviluppatore web e consulente web marketing poi ovviamente all'interno di questa vena e comunque questo ramo della consulenza negli ultimi anni soprattutto dopo averlo studiato e averlo analizzato con molta attenzione ho deciso di dedicare molto del mio tempo a telegram o meglio molto del mio tempo libero perché gran parte del mio tempo come dicevo lo dedico allo sviluppo al realizzare o comunque a cercare di trovare delle soluzioni utili per le aziende per le micro imprese o perché no anche per le persone che hanno l'intenzione e la volontà di scoprire la tecnologia quindi sei caduto nella piattaforma di divulgazione digitale cioè fvg tech mi piace usare questo termine però insomma anche noi nel nostro piccolo cerchiamo di spiegare alle persone ormai ci seguite da più di 60 puntate cerchiamo di spiegare anche le cose più pratiche nel modo più semplice possibile perché di parlare tra tecnici e professionisti ormai le sappiamo le cose dobbiamo andare da chi non le sa a spiegarle allora andiamo subito al focus della puntata intanto vi avviso che incredibilmente sia noi qui dallo studio sia Flavio siamo sulla direttrice di un aeroporto io per quanto riguarda un aeroporto militare tu probabilmente è un aeroporto è un aeroporto civile di venezia ecco quindi ogni tanto il segnale potrebbe perdersi ci magari ci vedrete a scatti non è colpa nostra ma sono gli aerei senza scie chimiche tranquilli allora Flavio andiamo in bomba sull'argomento come e questa è una domanda se viene per ore ma come si può utilizzare telegram per il nostro business piccolo o grande che sia cioè quali sono gli strumenti che telegram possiamo mettere a disposizione in maniera più diretta per aiutarci ad imporre la nostra azienda il nostro business beh come prima cosa diciamo così come per tutte le altre piattaforme tutte le altre applicazioni bisogna andare a scaricare l'applicazione e quindi crearsi il proprio account beh una volta creato il tuo account il mondo ti si apre un mondo un mondo di risorse un mondo di funzionalità un mondo di possibilità ovviamente state utilizzarle nel migliore dei modi per ottenere i risultati cioè il risultato di far crescere il tuo brand reputation o far crescere la tua reputazione ok e quindi far crescere il tuo il tuo business far conoscere la tua azienda quindi telegram può essere utilizzato una piccola azienda potrebbe sfruttare telegram per offrire consulenza ai propri ai propri clienti quindi visto che ha sia la possibilità di inviare file di grosse dimensioni quindi se tu sei un una stamperia diciamo così puoi ricevere da parte dei tuoi clienti le brochure in alta in alta definizione le puoi scaricare sul tuo sul tuo pc e poi ovviamente puoi mandare direttamente in stampa se sei per esempio un falegname e il l'architetto il tuo architetta ti vuole inviare diciamo così delle foto ti vuole far vedere gli schemi di lavoro su cui tu devi operare per realizzare un mobile per realizzare una cosa può sfruttarlo direttamente può sfruttare telegram inviarti un album di di immagini tutte nella in buona qualità in buona risoluzione perché in buona risoluzione perché telegram è una delle cose che fa è ottimizza il consumo ma mai a discapito diciamo così della qualità quindi telegram è un programma di messaggistica evoluta ma molti piattaforme io inizio una conversazione col cellulare arrivo in ufficio accendo il mio mac e la continuo sul computer poi vado nella mia workstation sul quale faccio grafica e spedisco un file da un giga e mezzo capite che un file da un giga e mezzo puoi mandare un intero video di un matrimonio senza perderti con cd chiavette eccetera web we transfer lo mandi via telegram se un fotografo mandi tutto il video via telegram che arriva ad alta risoluzione e questo è l'utilizzo diretto poi vedo ultimamente anche su facebook tanta pubblicità di persone che dicono iscriviti al mio canale telegram dove ogni giorno mando una nota vocale per spiegarti che ne so un argomento questo può essere utilizzato anche dalle aziende cioè creare un canale che potrebbe essere quasi una pagina nel senso io ho un canale dove mando un messaggio arriva a tantissime persone però loro non possono rispondermi tra le varie funzionalità esiste esistono i canali e quindi canali come dicevo prima è solo uno di quei precursori che ha sempre definito il canale di telegram una sorta di newsletter per tutti perché a differenza della newsletter quella classica dove alcune volte finisce in spam finisce non viene consegnata perché magari il servizio utilizzato ti limita e quant'altro tu hai la possibilità di registrare far iscrivere infinite persone di cui tu non conosci attenzione visto che stiamo parlando del di un'applicazione parliamo di dati telegram tiene molto alla privacy dei propri dei propri utenti quindi è molto sta molto attenta anche a quelle che sono le regole gdpr tu come amministratore conosci solo ed esclusivamente quello che il tuo utente vuol farti conoscere cioè il username e l'immagine il resto tu non conosci nulla non serve neanche un numero di telefono o sbaglio non conosci il suo numero di telefono il tuo utente sicuramente per registrarsi a telegram utilizza il suo numero non deve darlo a tutti non te lo deve non te lo deve fornire a differenza di altre applicazioni dove per accedere a un canale di broadcasting o per accedere a un gruppo si deve conoscere il numero di telefono in questo caso io basta che conosco il tuo il tuo nome mi fai capire qual è il tuo nome come cliente quindi all'interno del canale si possono iscrivere milioni di persone e la comunicazione uno a tanti cioè io che amministro il canale azienda comunico a voi tanti per esempio in italia esistono già alcune aziende consolidate che sfruttano telegram per per comunicare con il con con il loro con i loro clienti tra queste per esempio potrei citare post speaker o anche revolution hosting in entrambi i casi un saluto agli amici di post speaker che sono stati con noi qualche puntata fa per esempio queste due aziende varie volte attraverso il canale di telegram realizzano delle campagne in cui dicono regista andate a registrarvi o rinnovate il vostro abbonamento sfruttando questo codice sconto che trovate all'interno del nostro del nostro canale la stessa identica cosa anche per revolution hosting pure loro dicono se volete faccio un esempio se volete avere hosting o quindi dove ospitare il vostro sito a un costo diciamo così limitato e per un per un intervallo diciamo così di tempo più lungo rispetto al normale sfruttate questo coupon e potete diciamo così iscrivervi ma quindi è giustamente tu dici che come una newsletter però non devo avere un programma di posta non devo prima aprire il programma di posta poi aprire il messaggio poi leggerlo poi cliccarlo mi arriva come fosse un messaggio di un sms un whatsapp un messenger proprio mi arrivo cioè io spedisco a 500 persone iscritte al mio canale un messaggio come mandarlo come mandare un sms clicco ed è già arrivato a tutti con notifica se voglio notifica si volendo poi comunque telegram permette ti dà la possibilità di silenziare ovviamente i canali ma comunque rimane il numeretto che ti indica che c'è un messaggio e quindi tu comunque arrivi a visualizzare il messaggio magari non lo visualizzi subito però guardando avendo diciamo così un'esperienza abbastanza rodata e quindi gestendo già diversi diversi canali di telegram per diversi professionisti anche canali miei personali ti posso assicurare che sì è vero hai molto probabilmente il tasso di apertura almeno nei canali che io che io gestisco il tasso di apertura è pari al 75 80 per cento già subito nel 5 per cento si sente bravi ragazzi nella prima diciamo così nella prima nella prima giornata poi ovviamente il restante 20 per cento viene distribuito sulla seconda o la terza giornata ma il più delle volte non arriva mai alla terza giornata perché il grosso è il primo giorno e un'altra parte del restante quindi un altro grosso un altro pezzettino grosso viene nella seconda giornata un canale di comunicazione che ha quasi il cento per cento di tasso di apertura ovviamente la lettura di dipende se uno lo legge o no ma il tasso di apertura poi diciamoci la verità è una tecnologia un sistema che è inizia ad andare di moda adesso no anche se esiste da tanto quindi iniziare ad utilizzarlo adesso si è tra i primi quindi siamo ancora in quel momento in cui uno è iscritto a cinque canali non a cinquecento diciamo che in realtà inizia a diventare lo spazio è immenso è a disposizione per tutti però diciamo che bisogna iniziare già a studiare bene questa applicazione perché in in italia siamo già diventati 10 milioni forse anche qualcosa in più e stiamo parlando di utenti attivi ogni mese in realtà la base ragazzi presto che tardi se no arrivate ultimi a questo giro download ci dicono che siamo la base degli utenti dovrebbe essere intorno ai 20 milioni però quelli che hanno una certa costanza è pari a 10 milioni poi bisogna anche tener conto un'altra cosa che nonostante magari qualcuno potrebbe dire eh vabbè ma whatsapp arriva ad averne 30 in italia beh è vero però bisogna vedere i dati di permanenza per esempio gli utenti di telegram trascorrono 3 ore 40 minuti al giorno all'interno di telegram mentre su whatsapp è un pochino meno quasi un'oretta di differenza almeno non sono io che do questi dati però i dati ultimamente ci dicono questo ci sono tantissimi ragazzi che utilizzano telegram per imparare a sviluppare tantissimi ragazzi per imparare a le lingue e io per esempio ho realizzato un progetto che si chiama inside bin all'interno di cui raccolgo proprio tutti questi canali tutti questi ehm gruppi tutte queste risorse utili dove le persone possono andare a eh trovare diciamo così non soltanto il canale del comune che ti manda le notifiche se c'è la lettera meteo se ci sono eh diciamo così dei lavori in corso o se ci sono stati degli incidenti ma ci sono anche canali dove o gruppi dove le persone possono entrare in contatto e imparare a a sviluppare esiste una comunità esistono delle comunità bellissime eh in italia dedicata alla schedina programmabile arduino ma anche alla raspberry possiamo passare visto che ci guardano eh molte micro imprese molti artigiani paretto negozietto eh che ne so anche uno un libro professionista che fa personal branding tu quali sono i consigli che dai a queste persone per utilizzare al meglio telegram io ad esempio la prima cosa che ho fatto è creare dei canali per le mie varie attività no così la gente si iscrive ne ho da settecento ne ho uno anche da trenta che è il mio personale perché voglio dire non c'è niente da da vergognarsi da averne trenta se sono trenta che mi ascoltano quindi tu alla piccola impresa al piccolo negozio oltre a scaricare installare telegram per essere eh collegato direttamente cosa consiglieresti creare una propria consideriamola non chiamiamolo canale in questo caso proviamo a chiamarlo pagina no perché magari qualcuno ha già esperienza da altri social e quindi chiamiamo la pagina andare a crearsi quindi la propria pagina in questo caso stiamo parlando del canale all'interno del cui bisogna ricordarsi una cosa molto importante se io sono un bar se io sono un libero professionista se io sono un'azienda di qualsiasi tipo devo comunicare quello che io faccio quello che io offro quindi se ho degli sconti se ho degli orari di apertura particolari se ho portato dei prodotti nuovi perché non sfruttare e dare i dettagli visto che posso caricare un'immagine metterci una didascalia di ben mille e ventiquattro caratteri capite che c'è la possibilità di descrivere tantissime cose su un prodotto magari sono un libero professionista e dico che posso offrire delle consulenze e quindi non scrivo tutti i dettagli della consulenza in un'immagine dedicata ma offro tutti i vari dettagli come posso essere contattato in che orari posso essere contattato direttamente attraverso questa descrizione quindi anche mandato delle notifiche periodiche quindi la poi la seconda cosa perché no aprire anche e sfruttare quelli che potrebbero essere sia i gruppi quelli normali super gruppi cioè gruppi dove possono essere iscritte fino a 200.000 persone che però parlano tra di loro però iniziano a chiacchierare tra di loro possono essere degli amici che frequentano il bar possono essere comunque delle persone che frequentano il tuo bar ti possono dare dei feedback ti possono consigliare ti possono dire però uno si domanda sempre io apro la mia pagina su un'antisocial e il mio gruppo su telegram fin lì ci siamo però poi come faccio a raccogliere le iscrizioni io ad esempio ai miei clienti propongo se sono un ristorante di avvisare all'interno del punto vendita iscrivetevi al nostro canale nuovo canale telegram perché a tutti gli iscritti ci sarà uno sconto dell'x per cento la prima volta che tornano dai iscritti cioè bisogna un po' sensibilizzarli tu cosa consigli per aumentare quella è la prima quella è sicuramente la prima è la prima soluzione un'altra soluzione potrebbe essere se già siano e già si sfruttano altri social network ricordiamoci che il nome della del nostro canale della nostra pagina diciamo così di telegram ha un indirizzo univoco quindi un indirizzo che è nostro che rappresenta magari il nostro il nostro bar la nostra azienda quel link lo possiamo utilizzare lo possiamo mettere diventa un link cliccabile quando lo pubblico in giro lo possiamo distribuire attraverso altre applicazioni di messaggistica quindi sfruttiamo attenzione che non fa mai il nome degli altri perché è flavio sei un evangelista un fidanzato di telegram ma fai bene hai ragione allora non vorrei dire fate come me io per esempio sfrutto moltissimo le storie di 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 whatsapp per dire trovate venite a trovarmi sul mio canale di te di telegram oppure sfrutto moltissimo io per esempio all'interno della pagina di di facebook al progetto inside telegram noi abbiamo se noi non abbiamo tutto il tempo a disposizione come ho detto ne io neanche i miei i miei collaboratori amici ma abbiamo il tutto il tempo per stare a rispondere a tutti perché ogni giorno abbiamo decine di richieste di aiuto per quello che riguarda per quello che riguarda telegram e allora noi che cosa abbiamo fatto abbiamo sfruttato la possibilità delle risposte automatiche offerte da facebook e quindi quando una persona ci contatta noi magari non rispondiamo e riceve il messaggio automatico in cui noi diciamo guarda che in questo momento non siamo disponibili puoi trovarci sul nostro canale e poi trovarci ovviamente all'interno del nostro gruppo e quindi iscriviti e ricevono questo link un'altra cosa che noi abbiamo sfruttato è che qua non so se ho a portata di mano però no non ce l'ho a portata di mano noi per esempio abbiamo realizzato per esempio dei quadernini in cui abbiamo messo ovviamente l'indirizzo e abbiamo messo il logo del nostro del nostro sito è un pochino quello che dicevi te oppure abbiamo fatto dei QR code dove per alcuni clienti abbiamo segnalato questa cosa qua il codice a barre ma quadrato sì il codice a barre ma quadrato quindi si sfrutta questi si sfruttano questi QR code per far diciamo così iscrivere automaticamente le persone al al proprio canale quindi questo è un altro un altro ma i canali se non vado errato caro fravius io ad esempio se ho un canale dove do delle informazioni o come fate voi dei trucchi dei segreti faccio il vocale mando le immagini mando delle istruzioni se io mi iscrivo oggi a un canale vedrò anche tutto il materiale precedentemente inviato certo che sì quindi è un archivio è un archivio in effetti può essere utilizzato dalle aziende può essere anche utilizzato come storico quindi se magari uno ha un'idea cioè magari perché non ha tanto tempo a disposizione ma cerca di fare delle campagne pubblicitarie identiche per tutti i social network quindi sfruttando la stessa immagine poi negli altri è un pochino più difficile andare a controllare l'album mentre sul telegram è molto più è molto più spontaneo perché tende a tenere comunque salvato la traccia nella cache quindi è più facile caricare le immagini quindi tu vai nell'album delle immagini e vai a risalire alla promozione che tu hai scritto se poi come dicevo non metti solo l'immagine in sé ma metti la piccola didascalia se tu scrivi promozione nel campo di ricerca visto che telegram ti dà la possibilità di avere un campo di ricerca globale all'interno del cui tu puoi scrivere una parola e ti escono fuori tutti i messaggi in tutte le chat in tutti i canali in tutti i gruppi oppure direttamente un motore di ricerca all'interno dei canali o dei gruppi sì certo quindi ovviamente ci sono le ricerche globali ma anche per messaggio all'interno no? sì sì all'interno dei canali ma anche all'interno dei gruppi si ha la possibilità di fare una ricerca per messaggio quindi hai la possibilità di andare un enorme archivio un archivio enorme sì sì sia sia te utente ma anche te che utilizzi telegram per parlare con i tuoi clienti hai la possibilità di andare a risalire a quello che tu hai messo all'interno quindi oltre alla ricerca globale hai anche una ricerca all'interno poi all'interno dei gruppi per esempio si può addirittura andare a ricercare quello che un cliente magari ti ha chiesto quindi tu fai la ricerca direttamente in base al messaggio mandato da quel cliente quindi le potenzialità sono immense quelle offerte da offerte da telegram poi e da un paio di mesi a questa parte telegram dà la possibilità per l'esattezza dal mese di giugno con l'aggiornamento di giugno telegram dà la possibilità di collegare un canale e un gruppo tra di loro e quindi hai la possibilità di far migrare persone dal gruppo al canale o dal canale al gruppo e qui questo è un altro modo per far crescere entrambi le comunità possibilità infinite di questo telegram che ormai non è solo una chat ma è una piattaforma di comunicazione espansiva tra le risorse esiste anche la piattaforma diciamo così telescope che cos'è telescope? quando hai un canale di telegram se tu invii quei famosi video messaggi di un minuto questi video possono essere rivisti all'interno della piattaforma telescope basta scrivere telescope nella propria barra dell'indirizzo sul browser e puoi mettere il nome del tuo canale o di un'altra persona e poi prendi il video e vai a rivederti tutti i video messaggi che sono stati trasmessi questa è una funzione valida solo ed esclusivamente per i canali e quindi tu puoi far vedere alle persone puoi prendere il link e condividerlo sugli altri social network ascolta Flavius abbiamo parlato di canali tu ovviamente hai il tuo canale come ti troviamo? allora il mio canale principale è dedicato al progetto telegram si chiama Inside Telegram Inside Telegram quindi ora cercate su telegram oppure t.me slash Inside Telegram perfetto lo scriviamo nel sottopanzo farsi pubblicità e far pubblicità al proprio canale le vie sono immense sicuramente il tempo che noi abbiamo a disposizione non è ma io ti richiamo eh non ti preoccupare che ti richiamo perché adesso devo chiudere il regista mi fa gesti come ogni puntata basta 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 che siamo fuori allora intanto cercate su telegram me, lui tutti quelli che volete che sicuramente ci sono mi tocca ringraziarti allora abbiamo avuto con noi Flavius, Florin, a ravor grazie, grazie mille a voi per la possibilità per la disponibilità e per questa bellissima chiacchierata allora quindi mandateci le vostre domande potete seguire questa puntata al di là delle repliche YouTube, tutti i social network i video, Spotify, iTunes se vi iscrivete al nostro canale Telegram che si chiama Occhio alla fantasia Gabriele Gobbo FWG Tech vi arriverà il file audio così fate un po' di jogging e ascoltate l'audio direttamente da dentro Telegram nel nostro canale seguite Flavius sul suo canale Telegram seguiteci partendo da fwgtech.it trovate tutti i link per andare in tutti i social in tutti i nostri sistemi di diffusione ringrazio ancora una volta Flavius grazie, grazie, grazie mille grazie mille a voi siete magnifici complimenti per tutto quello che avete realizzato e che state realizzando grazie mille di nuovo ci vediamo quanti grazie oggi eh ma però avere Flavius qui in tv ragazzi per noi è un grandissimo onore quindi ci vediamo sui social network oppure la prossima puntata da Gabriele Gobbo è davvero tutto arrivederci fwgtech un programma di Gabriele Gobbo ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali guarda il programma on demand su web, youtube, facebook, vimeo e tutti i social network www.fwgtech.it